ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di forza horizon sono di nuovo in compagnia di gianluca ciao come promesso andiamo a comprare il ford f100 non ci vorrà molto ecco ecco costa 26 mila cr che sarebbero i credit si tanto abbiamo 5 milioni 56 mila e passa ok ieri abbiamo speso un milione eravamo a 4 milioni qualcosa però stamattina abbiamo fatto un po' di auto abbiamo fatto un po' di pulizia prendilo bianco ma adesso vediamo quello che mi spero di più però non esageriamo col motore che dopo ci voglio andare un po' in farm ok io non mi piace nero prendilo nero va bene nero fatto dopo al massimo si muove te pensi alla meccanica e io penso al resto tipo il body e i cerchi li scelgo io insieme inizio la grafica torna a e poi vado a farla grafica questo video durerà come al solito tra i 20 minuti in giù e niente certo e comunque abbiamo in mente di cominciare una nuova serie che sarebbe su farming simulator 2013 vi faremo qualche video da prima avanti fallo vedere intorno da dentro ah si scusate che è dentro guardate che conta chilometri giga enorme si vede bene si va bene fallo vedere da fuori per bene tutto intorno è un vecchio piccolo è un vecchio piccolo da davanti bellissimo in pratica l'ho visto ah ah andiamo in garage si cambia marcia ah ok e qua premi questo ok potenziamento potenziamento perché potenziamento auto non va bene mettiamo il turbo e l'intercooler io il pick up che ho venduto così uguale rapporto modificato ehm oh il body e i cerchi li mettiamo dopo quindi adesso salta questi due vai sul filtro metti tutto provo a vedere se si può cambiare motore però e in fondo si vediamo che motore si può mettere cambia di motore allora ford mustang del 70 e shelby gt 500 del 2013 non lo mettiamo nessuno dei due perché esageriamo cambia di là conversione entra vai di là aspirazione turbo questo no aspetta quale? metti questo doppio turbo? si si metti questo mettiamo un bel intercooler torno indietro torno indietro si guarda che mi ricordo di traccia e metti il resto prendiamo la trazione un po indietro posizione mettiamo quello da gara mettiamo tutto da gara trasformiamo un f no tu puoi da rally quindi non il pacchetto rally non l'abbiamo preso perché è sinceramente uno spreco di soldi 20 euro ragazzi volete capire? metti anche questo così le ruote sporgono leggermente in fuori eh però che per chi vorreste comprarlo costa 20 euro freni perché sennò non lo prendiamo più eh già però mi è venuta un'idea per l'estetica compro anche questi? no 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 aspetta però aspetta entra barra antirulli no no vai avanti vai avanti si mettiamo però non mettiamo l'ultimo non mettiamo il penultimo perché dopo abbiamo quella sbarra in mezzo alle palle che non serve a niente quindi metti metti però mettiamo il penultimo così abbiamo sempre i due sedili davanti no però prova a mettere l'ultimo per non lo installare mettilo metti perché in fondo fai A se ci pensi eh il ford f100 ha un sedile unico è come un divano e quindi non posso utilizzarvi a metà divano quindi lo possiamo mettere fai B e facciamo il resto vabbè andiamo indietro andiamo avanti motore cambio spiltrone da gara aspirazione da gara ci sta carburatore si si vai vai stiamo da gara ovviamente ci sta un casino l'accensione non può mancare vai vai trazione anteriore no mamma santa mettiamo lo scaricone da gara si si vai metti tutto ok adesso mi diverto la cilindrata questa si che aggiunge bene e stiamo per avvicinarci al turbo turbo compressore vai su un ultimo dopo c'è l'intercure vai vai se vuoi mettere il turbo bisogna mettere anche l'intercure grafiche buona adesso partiamo da questo si si vediamo davanti no no si si lo mettiamo ci sta ci sta è molto da gara vediamo sembra più cattiva adesso si dai si si ci sta si tanto per spiegare un po' di soldi visto che ne andiamo tanto mettiamo i cerchi allora mescola gomme no no fidati metti subito le gomme vai in fondo mettiamo quelle da drift queste gomme slick quasi questo mettilo aspetta non mettere l'ultimo vai 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 no davanti lo mettiamo il minuscolo dietro no no mettilo almeno il secondo si questo e però sai che è trazione anteriore vai in fondo maia guardate qui che ruota gomma gigante i cerchi allora ho trovato dei cerchi stupendi stamattina questa macchina qua così qua sono migliori secondo me si vai mettilo però prova vedere quelli di fianco no non ci stanno però ti voglio far vedere degli altri cerchi dammela vieni allora li ho trovati stamattina però non so non li avevo mai visti però su questo qui non ci stanno bene no e aspetta c'è 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 uno degli altri no vabbè questi qui sono i classici se li quelli li sono i classici ma aspetta che ci hanno messo dei cerchi nuovi che schifo vabbè vabbè dai che ci sono facciamo tra fuori ecco prego ringrandisci i cerchi al massimo no ma al massimo no facciamo davanti meno si vai vai è dietro al massimo e quindi guarda qua che che roba ragazzi che roba ragazzi ehm andiamo a stare la grafica ok non finito adesso posso passiamo alla grafica ci pensa il nostro micro e questo questo video durerà finchè non finiremo la grafica ehm nel prossimo video faremo un test no no faremo un mini test forse questo forse dipenderà però tipo credo che taglieremo la parte per arrivare fino all'autostrada così la tiriamo al massimo anche se c'è quattro marci questa cosa quattro marci è una cattiva ah no le traccele posteriore beh è vero l'hai cambiata la versione aggressivo guardi guardi da panico aspetta la proviamo subito ti ricordi quella ragione speciale? figlio di trotto c'è quella ragione speciale che ti avevo trovato si ma adesso ci vediamo perchè voglio fare una cosa speciale dietro no lasciamolo nero che mi spira nero perché oppure ci possiamo cacciare anche delle belle fiagne no adesso vediamo no non è un trotto questo eccoci qui arrivati creazione design dobbiamo scegliere subito colore perchè ho in mente una cosa stupenda da fare dietro forse lo lasciamo anche così dipende però se mai lo facciamo lucido adesso vediamo verniciao allora adesso è non è nero è se che è marrone così così è nero no bianco o no fa schifo nero grigio neanche no vabbè lasciamo nero sai che ci sta così però lo facciamo nero no se colore mese sembra colore merda anche rosso ci sta però anche rosso ci sta però insieme al nero fa più rossi vabbè ne faremo diversi così se ci vuoi lo facciamo nero eccolo qui la raccettiva eccolo qui eccolo qui eccolo qui eccolo qui eccolo qui no ci sta così così portate pazienza allora parto subito da una cosa stupenda che mi avrete in mente di fare eccolo qui siamo in fondo, paraurti non è sempre una scritta la voglio fare bianca questa è la cosa che dicevo prima aspettate che non la vedo più ma benissimo oh se non viene perfetto non siamo mica ai mani delle auto di cosa anche se lo facciamo solo in parte credo che ci vuoi già no ancora un po' si è così che ancora allora ricordati la dimensione ricordati 0,14 ah ma qui l'ho è diverso allora 14 e da me era 8 però la o è diversa qui è tipo quadrata fino alla sera non la fai non la lettera 6 e non la lettera no no lo mettiamo lo stesso al massimo dopo lo mettiamo a punto per bene dopo vediamo allora 14 allora 8 e 14 così 8 sposta però aspettate è un po' è un po' strappato come la gallina e ben che se non viene perfetto va bene non mettiamo così tanto cosa cambia ragazzi niente perfetto ora 14 e 8 ecco qua vediamo qui vediamo come c'è venuto ovvio non è perfetto però da lontano non si nota facciamoci una bella targa questa ricordate di aggiungerci siamo fatte gli AR 2013 e si mettiamo la targa non così grande però ovvio però la targa in questo pick up andrebbe andrebbe di lato su cassone no mettere di lato sul cassone lo dobbiamo mettere qui no 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 di lato sul cassone si mettere tipo lo potremmo mettere qui è lì che va qui si lo si ci sta è lì che lo mettono sul pick up americans e allora qui ho un'idea no pensiamo o bella guarda ci vuoi mettere 12 anni non saprei puoi sempre provare no metti no non quella aspetta troviamo un attimo un farmacolo ci starebbe così che ne dici si ma a me quello non mette su qualsiasi come no però aspetta però c'è un problema e lì come si fa a metterlo ma vedi che c'è lo spazio arancione è spazio nero che colore lo volevi mettere scusa il colore un po' più rosso che ne è ma sempre l'alanzione solo che è più scuro adesso diventa così marrone merdo allora c'è la nuova scura oppure lo facciamo rosso si lascia rosso le cerchie rosse per lì però aspetta adesso dobbiamo far magari partiamo da qua guarda ne so vediamo vediamo no è proprio su no non così no è così così devo fare una roba perché è rimasto lo spazio per l'alanzione per l'alanzione non puoi non riesci a venire il salto ah ma allora io ho capito il buco qui che hai detto che hai detto sopra un colpo no aspetta no ho più ho più ho più un po' di turinare ah ma ci sono guarda che fai qui va beh l'altra parte bisogna vedere la roba o fatto però guarda guarda quanta gente che c'è là fuori che vuole vedere cosa sono curiosi anche qui non lo so ecco adesso è coperto per lì allora per metterlo lì magari proviamo a fare qui adesso vediamo vuoi fare vuoi fare una striscia no no aspetta si come pensavo vedi se lo so farà fanno già vedi si ho visto però qui cos'è non lo mettiamo qui o lo mettiamo già ci metti proprio un disegno della si lo so ma lo mettiamo tipo le fiamme però aspetta non vedi che c'è già una mini riga potremmo usare quella momenta allora aspetta verete se fa un pisterino qui notte che vedi Grazie. Ci sta? Sì, ci sta. Adesso devi camminare con lui in ricerca perché non ho sintomi con tutto. Mettilo lì, vedete un'angolina tra paravolti e la cabina. Dove aspetta? Te lo paro a fan qui dietro e ecco lì. Qui? Ci sta, ci sta. C'è più grande per il tuo disco. No, aspetta, lasciamo qui. La formula drift lo bisogna mettere. Però questo lo facciamo qui. Che ne dici? Certo. Vediamo cos'altro lo facciamo mettere. Grazie. Grazie. Formaggio, eh, si sente. Scusate, ma è entrato il mio papà. Non sapeva che stavamo facendo un video. Fa lo stesso. Scusateci per questa cosa. Ma cos'è quel piano? Cosa? Non mi piace. Puoi prendere per il cu? No. E che fiammi vorresti mettere? Cento fiammi. Eh? Senso. Senso. Mh. 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 il palo rosso c Grazie. 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 Ecco la bestia. si mangia siamo quasi arrivati all'autostrada non sono persone ma macchine del gioco potete gareggiare con tutto di loro cosa si fa a vestire? spero non ce la puoi sia tranquilli ora che ci arriva? al massimo per un flugone degli anni 90 è già è già tanto per i 219 220 è una mini salita da qua guarda da qua cosa cambia guarda guarda discesa oh merda ci vuole ecco l'ho anche fatto male perchè non pensavo ci vuole essere questa mia è andata bene questa mia è andata bene per questo video è tutto ciao a tutti ciao ragazzi da Gianlu da Gianluca da Gianlu Gianluca da Gianlu Gianluca e vabbè se volete aggiungeteci su Xbox fate YAR 2013 vi ricordo mettete mi piace iscrivetevi e commentate questo video di cosa ne pensate della nostra modifica del nostro Ford F100 ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao